Come ogni test match a livello internazionale, soprattutto per noi come Italia, ogni test match è estremamente difficile. Andiamo a affrontare una squadra che è davanti a noi nel ranking, quindi sicuramente ha dimostrato di essere migliore di noi e quindi per noi sarà una bella grande sfida, però siamo estremamente fiduciosi, abbiamo lavorato bene per preparare questa partita e sappiamo bene che avremo sicuramente il pubblico di Catania che sarà dietro a noi a spingerci e a darci forze per fare una grande partita. È stata attesa da parte del pubblico di Catania, è stata attesa da parte dei nostri giocatori perché è effettivamente il nostro primo incontro di questi tre test match di novembre. Quindi tantissima voglia, tantissimo entusiasmo, quindi vediamo l'ora che arrivi domani la partita.